Musica Grande successo con Tiki Taka, Pierluigi Pardo, grazie per aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi. Parliamo dell'Udinese, è una squadra che ha seguito quest'anno, in passato, da tanti anni. Quest'anno forse un po' al di sotto delle aspettative? Sì, può essere una crisi di crescita, probabilmente le cessioni di quest'anno non sono state, e questo è abbastanza curioso per l'Udinese, negli ultimi anni era sempre riuscita a compensare le cessioni con gli arrivi. Quest'anno questo non è successo, probabilmente anche di Natale non è eterno, non è un robot, anche se comunque sta facendo una buona stagione anche quest'anno, però evidentemente un pochino al di sotto di quelle meravigliose precedenti. Qualche mugugno, la piazza, però mi sembra che ci sia un problema più che altro di esperienza, di struttura, di forza, di squadra. Alcuni punti di riferimento del passato non ci sono più. Quando parla di mancanza di esperienza, probabilmente si è puntato troppo sulla linea verde quest'anno? Beh, però è anche il segreto dell'Udinese di questi anni, insomma io penso che se c'è una società a modello in Italia per il lavoro che ha fatto con i giovani, con il mercato internazionale, questo è sicuramente l'Udinese. I risultati ottenuti dal punto di vista economico, dal punto di vista anche delle prestazioni sportive, sono stati eccezionali. In questo, insomma, ha ragione Guidolin quando dice che forse c'è un po' di pancia piena alla parte di qualcuno, cioè che ci si è abituati a uno standard che con tutto il rispetto per Udinese è una città importante, è una città di provincia, era difficile da immaginare. Quindi da questo punto di vista, insomma, io credo che questa famiglia ha fatto le lotte eccezionali. Questo gruppo di giocatori e questo allenatore hanno fatto le lotte eccezionali. Io non posso non pensare all'Udinese come una storia di successo del calcio italiano di Ottimiana. Diventa difficile anche per un allenatore esperto come Guidolin creare sempre nuovi stimoli anno dopo anno? Questo non lo so, in realtà poi le partenze e gli arrivi vanno in questa direzione, no? Nel senso che comunque Udine è un ambiente importante, però è un ambiente di provincia, per cui secondo me è difficile mantenere, tenere infiodati i giocatori se vogliono andare via, soprattutto se hanno delle grandi offerte. E da questo punto di vista, questo turnover, questo cambio che c'è stato con tanti nuovi giovani dentro, poteva dare una mano dal punto di vista delle motivazioni. Quello che mi sembra che sia venuto meno quest'anno forse ha proprio un po' di qualità tecnica. Cioè la squadra ha perso dei punti di riferimento, io penso per esempio Benatia dal punto di vista difensivo, quello che sta facendo a Roma, è eccezionale e insomma questa senza si sente. Benatia è partito però un altro grande difensore, l'Udinese probabilmente lo ha trovato, Ertò. Non parliamo solo dei gol realizzati, perché i difensori si giudicano per il ruolo e non per i gol segnati. Assolutamente, si giudicano per la continuità di rendimento. Insomma, non è neanche così sorprendente, nel senso che la rete di scout, di osservatori dell'Udinese in questi anni è stata eccezionale. E' veramente una società moderna da questo punto di vista, è una società consapevole del proprio budget, delle proprie possibilità e consapevole del fatto che se si ha la possibilità di avere i migliori scout, i migliori osservatori in giro per il mondo e si fanno delle scommesse, poi alla fine quasi sempre queste scommesse possono funzionare. C'è la quella che va bene, quella che va male, ma alla fine il rischio, il gioco vale la candela. E quindi da questo punto di vista Artò sicuramente è l'ennesima storia di successo dell'Udinese. C'è un problema a portieri, secondo Pierluigi Pardo? Sì, c'è un problema a portieri. Cioè, io sono il Berticcio, non mi convince del tutto. E' chiaro anche che, insomma, se non è utile l'ambiente nel quale si può dare un po' di serenità per poter lavorare, allora è finito il mondo. Quindi bisogna aspettarlo, però sicuramente se funzionare la valla secca, se c'è rispetto al passato, un problema in quel ruolo, sicuramente la risposta è sì. E quale calciatore magari ha reso meno o al di sotto delle aspettative quest'anno? Beh, secondo me, insomma, quest'anno il livello complessivo della squadra non è stata l'altezza. Insomma, io mi aspetto di più da Muriel, io mi aspetto di più da Maxwell, Rivello di Natale, Giovero d'Eterno, che anche quest'anno sta facendo chiaramente il suo. Però lo stesso Berkic, appunto, non lo sta rendendo per quelle che potevano essere le aspettative e le speranze. Poi il calcio è materia liquida, quindi magari da qui a due o tre settimane la situazione sarà notevolmente migliorata o notevolmente peggiorata. Speriamo che sia notevolmente migliorata. Credi davvero che Di Natale a fine anno lascerà il calcio giocato come ha detto qualche settimana fa oppure uno sfogo del momento? Io credo che sia uno sfogo del momento, spero sia uno sfogo del momento, perché comunque Di Natale è un giocatore che vorremmo sempre vedere in campo, perché continua a regalare magie. Però è anche vero che alla fine è meglio lasciare con un ottimo ricordo che stare lì a rimanere in campo senza gioia, senza voglia e magari facendo anche un po' di compassione. Di Natale è lontanissimo dal giorno in cui potrebbe fare compassione, perché è ancora un giocatore eccezionale. Però se da parte sua c'è questa consapevolezza, c'è questa domanda interiore di chiedersi quale sarà il momento giusto di lasciare, se c'è l'intenzione di lasciare quando è ancora in una buona condizione fisica, questa è una scelta che io mi sento di rispettare completamente. Pierluigi, prima hai parlato giustamente per i risultati ottenuti nel giro di anche pochi anni di modello udinese, ma può diventare un club che non è una tappa di passaggio seppur importante per un calciatore, può essere un punto di arrivo? Sì, dipende molto. Per Di Natale è stato un punto d'arrivo. La sua scelta di non andare alla Juve, di non andare in altri club, è una scelta di vita ed è una scelta però fatta in un club importante. Non è che l'ha fatta in un club che lotta per la salvezza. Almeno fino ad oggi non c'è stato questo tipo di situazione. Io credo sinceramente che l'Udinese, è chiaro che i preliminari persi, soprattutto quelli di Champions League hanno rappresentato un po' un momento cruciale perché fare la Champions o non fare la Champions cambia le cose. Questo è successo per due anni consecutivi e in questi due anni evidentemente l'Udinese dei treni li ha persi per diventare sempre di più una società importante e stabilire un proprio ruolo significativo nel calcio europeo. Guidolin ha trovato la sua oasi, per così dire, in Friuli con l'Udinese. Meritava una grande per quello che ha fatto? Ma questo è un tema che ricorda i 15 anni, una domanda che gli abbiamo fatto mille volte. Meritava una grande? Sicuramente sì, per la continuità di rendimento che ha avuto assolutamente sì. Però che cos'è una grande? Mi viene anche poi questa domanda da fare. Una grande sicuramente è una squadra che ha delle altre ambizioni, ma è una squadra nella quale si rischia anche magari di bruciare qualcuno. Guidolin ha fatto una scelta diversa, ha avuto una continuità di rendimento eccezionale e tutto ciò che è razionale è reale, con Hegel te lo dico. Cioè secondo me poi alla fine le cose succedono, se non succedono bisogna dare una spiegazione. Io non so se Guidolin non abbia avuto il physique du role, come direbbe Galliani, per poter allenare una grande. Forse sì, forse sì o forse semplicemente ha avuto da parte sua la saggezza di non volersi bruciare in situazioni che dovrebbero avere dei problemi. Pardo, lo stadio di proprietà. In Italia ce l'ha solo la Juventus, presto lo avrà l'Udinese. Quanto è importante per una società dotarsi di uno stadio proprio, anche per i successi futuri? È molto importante, anche da questo punto di vista l'Udinese all'avanguardia, ha fatto un'operazione certamente diversa rispetto a quella della Juve, perché comunque ha un bacino di utenza più piccolo, però un'operazione comunque importante che va nella stessa direzione. È giusto, è giusto, è importante, dà la possibilità di massimizzare i ricavi, dà la possibilità di utilizzare lo stadio durante la settimana, ti toglie il canone d'affitto, sarà anche una cifra minima, però comunque è una voce di costo. Soprattutto, insomma, secondo me, aver voluto lo stadio di proprietà è una cartina al tornasole della managerialità della società florana, quindi oltre a essere una cosa utile, è una cosa che ti racconta quanto l'Udinese sia all'avanguardia, quindi anche per questo mi sembra un'ottima notizia. Per quanto riguarda il campionato di Serie A in generale, Pierluigi, torniamo alla Juventus, chi ti è piaciuta di più? Beh, mi è piaciuta sicuramente la Roma, moltissimo, è quasi miracoloso quello che Sabatini e Garzia sono riusciti a fare, mi è piaciuto il Verona, mi aspettavo una salvezza tranquilla, però mi sembra che abbiano ottenuto dei risultati incredibili. Mi piace la Fiorentina, al netto dei problemi che ha avuto, che non possono essere cancellati, perché per niente non ha mai avuto Gomez e per buona parte della stagione non ha avuto nemmeno Pepito, quindi insomma, credo che la Fiorentina sia fra quelle che dobbiamo promuovere e poi direi non molto altri. Il Napoli? Il Napoli è una storia strana perché è chiaro che ha fatto una gran figura in Europa, però comunque ha portato a poco. E in campionato non è che mi sia piaciuta moltissimo, cioè a me la diagnosi sul Napoli è una diagnosi che mi sembra molto chiara, molto precisa, una squadra che dietro soffre troppo, davanti è fortissima ma che dietro ha dei problemi. Parlando di te, personalmente, sfogliando l'album dei Ricordi, stai ottenendo un grande successo con la tua trasmissione e ti aspettavi quando hai iniziato questa carriera di arrivare dove sei arrivato e quanti sognai ancora nel cassetto? Beh, no, non lo so, nel senso che poi alla fine mi aspettavo di divertirmi, speravo di divertirmi e mi sto divertendo. Poi il fatto di dire, è successo, è chiaro che fare la telecronica di una partita più importante rispetto a una meno importante fa piacere, o lavorare a un progetto e avere dei risultati come stiamo ottenendo quest'anno con Tichità che è una grande soddisfazione personale e condivisa con Brachino, con Foroni, con tutti quelli con cui lavoro, quindi questo mi fa enormemente piacere. Però il punto di partenza di cui ho cominciato a fare questo lavoro è stato provare a fare un lavoro che mi divertisse, mi diverto ancora e quindi il mio sogno è questo, di continuare, di non perdere la passione tra dieci anni o tra quindici anni quando sarò ancora più grasso, più brutto e insomma il fisico sarà completamente caduto a pezzi. No, è questo, non ho l'ambizione, non so dirti che voglio fare tra cinque anni, così come cinque anni. Io sono arrivato a Mediaset e non pensavo di venire qui a fare il conduttore di un programma, è una cosa che è nata così, qui non era scritto da nessuna parte, quindi non lo so, spero di continuare a divertirmi. Hai seguito i mondiali, hai seguito la Champions, hai seguito tutti gli eventi più importanti legati al mondo del calcio. Il tuo ricordo più bello a cosa è legato? Il ricordo più bello è legato alla prima finale di Coppa Inghilterra di cui ho fatto la telecronaca, parliamo del 2001, che era un Arsenal Newcastle, poi è il primo europeo che ho seguito in Portogallo, in Portogallo tra l'altro piace molto, sicuramente l'esperienza in Sudafrica è stata sia a livello di Confederation che di Mondiale, sarà bellissima. Ci sono tanti momenti belli, la finale dell'anno scorso fra Chelsea e Benfica su rete 4, insomma con quel finale lì è stata incredibile, le semifinali Barcellona-Celsi dell'anno prima. Il calcio ha una forza incredibile, ha la forza di sorprendere, di emozionare, poi spesso è anche noia perché ci sono anche gli 0-0, ci sono anche le partite brutte, ci sono anche le miserie, le tristezze, la violenza, ci sono anche un sacco di cose brutte, però con il calcio sai sempre che qualcosa di meraviglioso potrebbe succedere. Penso a uno Schalke a Trenic Bilbao l'anno scorso su Italia 2, che era una partita di Europa League alla quale ero andato così come se fosse una delle tante, era una partita meravigliosa, insomma c'è sempre la sorpresa. Ma io non lo so se piace, sì, forse è umile ma un tanto, sincero penso di sì, umile non tanto nel senso che un po' di autostima ci vuole, però diciamo che l'autoironia credo che sia importante, non tirarsela troppo credo che sia importante, questo sicuramente in generale. E penso che da questo punto di vista poi alla fine se uno fa delle cose dove un po' ti sgamano, come si dice a Roma, cioè lo scoprono se sei uno che si sente oppure no, oppure sei uno un po' più tranquillo. Questo senz'altro, io penso che abbiamo una grande fortuna, o una grande fortuna è quella di fare un lavoro che mi piace tanto. E questa cosa qui, un lavoro che mi piace tanto è che tanti vorrebbero fare. E anche un lavoro dove ci si può esprimere, si può essere liberi di dire quello che mi limiti, insomma, ma di viverlo anche come un gioco. Io penso di essere, dal punto di vista del lavoro, io penso di essere stato fortunato, di essere non meritato, però di essere stato fortunato, perché faccio un lavoro che mi piace e mi diverte. E quindi cerco di viverla così un po', insomma. È stata anche un po' sfortunata Rudinese, riallacciandoci al nostro discorso in questa prima buona parte di campionato. Sì, beh, qualche partita sicuramente sì. Partita sì, però anche, soprattutto nelle competizioni lunghe, mentre se penso a Arsenal-Udinese, tra l'altro, ecco, anche quella è una partita all'andata che ho seguito due anni fa, penso a tante palle e gol, nella partita secca ti può dire sfighe. Nel campionato è un po' più difficile, nella continuità delle partite dopo 20-25 giornate, è un po' difficile, secondo me, pensare che il fattore fortuna o sfortuna sia stato così decisivo. Soprattutto in un campionato come quello di Rudinese, che deve essere un campionato tranquillo. Quindi, magari, la fortuna o la sfortuna, se sei punto a punto, può decidere un primo posto in classifica. Qui, secondo me, quest'anno la squadra non è andata a livello degli anni scorsi. L'augurio è che possa recuperare, che possa fare un finale di campionato molto positivo, come è successo, tra l'altro, negli ultimi anni, perché questo deve lasciar ben sperare. Insomma, se parliamo le ultime due stagioni, Rudinese le ha chiuse tutte e due in grandissima crescita. Quindi, se ci sarà questo tipo di situazione, sarà un successo. Però, fin qui, mi aspettavo qualcosa di diverso e credo che se lo aspettassero i tifosi, il Pozzo, Vudolin, tutti. Pierluigi, il tuo saluto ai tifosi dell'Udinese, che comunque seguono con passione la squadra e seguono anche la tua trasmissione. No, ma anch'io seguo voi, nel senso che Udine è una trasferta che mi piace. Questa non l'ho mai fatta, l'anno scorso l'ho fatta mille volte, l'ho fatto cinque o sei volte l'Udinese. e mi piace, mi piace. Mi piace venire da Udine, mi piace questo senso di otherworldness, di essere lontani un po' da tutto, ovviamente, da quelle che sono le direttrici normali, Milano, Firenze, Bologna, Torino, Roma. È un bel posto, è un bel posto che mi piace molto. Io la faccio sempre in macchina da Milano, 350 chilometri, mi rilassa molto guidare, mi piace molto quando superata Venezia, si entra appunto nel frio di Venezia Giulia, quando c'è il bivio per Trieste, so che c'è una profonda rivalità, però si arriva a quel bivio lì, vabbè, insomma, al di là della rivalità, a me piace, devo dire che mi piace molto anche Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, è una piazza eccezionale. Però detto questo, ovviamente, non voglio rinfocolare le rivalità. Credo che sia un bellissimo posto, insomma, a parte, non voglio parlare del prosciutto, perché altrimenti mi potrei commuovere, insomma, di fronte al prosciutto. Però, viva il San Daniele, mandi, mandi a tutti. Grazie per il Gipardo.